buongiorno ragazzi siamo qui in questo nuovo video, questo video sarà per lo più diciamo un mini vlog dove durerà più o meno circa due minuti dove vi dirò due due novità due news e sì due news allora ho registrato un nuovo tipo di video che si chiama cose che non sapevi nuovo format diciamo che porterò sul canale a breve perché come avete visto dalla intro del video delle rischi a gusto c'è scritto gasti big one bla 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 e sotto iscrivetevi due video a settimana quindi questa settimana ne ho già messi due in questi cinque giorni in registro cioè in questi sì in questi cinque giorni in registro e poi così per tutte le settimane magari non metterò due giorni consecutivi ma un giorno sì due no uno sì due no vabbè gasti alla matematica comunque sì ho appunto registrato cose che non sapevi che è venuta abbastanza carino però ho tempo per rifarlo e rieditarlo e poi stavo pensando di procedere a una nuova serie sulla wii però ragazzi ho un problema non so come registrare decentemente la wii perché ho capito che mi metto qui con l'ipad il film o la tv capito ma la qualità è quel che è io voglio portarvi un minimo di qualità capite quindi se qualcuno mi dice o se no cazzo me ne cerco su internet come registrare la wii proprio come fanno gli youtube ne sarei grato quindi le cose che dovevo dire le ho dette tutte al prossimo